Eder. Mech. Pallister. Maggiorenni. Al culmine della lite, uno di loro ha estratto un coltello e ha inferto un colpo fatale al cuore al trentenne pakistano. Il tutto è accaduto poco prima delle 17 di domenica 13 agosto, i motivi dell'alterco sono ancora ignoti, i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno fermato uno dei ragazzi, il presunto responsabile dell'aggressione, inizialmente si pensava che la vittima fosse un 44enne tunisino, poiché l'uomo colpito a morte aveva in tasca il documento di un'altra persona. Precisamente un codice fiscale. Tuttavia, gli accertamenti successivi svolti dai carabinieri hanno permesso di risalire all'identità del trentenne di nazionalità pakistana. Secondo le prime informazioni, scaturite dall'interrogatorio del gruppo di giovani portati in caserma, il litigio sarebbe stato originato da motivi futili. L'alterco è proseguito fino a quando uno dei ragazzi, poco più che maggiorenne, ha estratto un coltello e ha colpito al cuore il trentenne. Quest'ultimo è deceduto poco dopo. I giovani sono stati rintracciati nei pressi del parco, e la posizione di uno di loro è sotto esame dagli investigatori. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.